Le novità del Salone 2022 per Conte sono sicuramente la nuova collezione presentata con Dai Nelli Studio, al quale abbiamo affidato la progettazione di un nuovo letto che si chiama Levante, che ha al seguito una serie di complementi dal gruppo Notte Cricket alla Panca Vincent e allo scrittoio Vincent. Abbiamo voluto dare anche una continuità a quelle che sono le nostre collaborazioni storiche consolidando i rapporti con il nostro designer Enrico Cesana con il quale abbiamo creato la collezione Berger. Abbiamo potuto finalmente presentare quella che è stata la nostra prima collaborazione con lui del letto Dominique. Anche la collezione Karl è una continuazione di quella che è la nostra collaborazione con un nostro altro designer storico che è Gio Garzone. Quando affidiamo una collezione ai nostri designer di sicuro uno degli elementi caratterizzanti che chiediamo è il mix di materiali. L'abbinamento di marmi, legni, tessuti e pellami viene sempre studiato in maniera che i prodotti possano vivere in simbiosi in qualsiasi ambiente con qualsiasi pezzo della collezione. La nostra è un'azienda che prevalentemente ha un'identità molto borghese. Abbiamo sempre tonalità che sono neutre. Quest'anno abbiamo usato un po' di più inserendo i nuovi colori che sono il terracotta, che riporta un po' a quella che è la terra come concetto, abbinandolo con essenze come l'ebano chiaro o l'ebano scuro, che riportano al colore interno alle impiallacciature. Altro prodotto che abbiamo inserito è il colore verde salvia all'interno delle collezioni per dare un tocco di colore che riporta sempre un po' a quello che è la colorazione della natura, toccando un po' questo tipo di corde ed elementi. L'azienda è un'azienda giovane, nata circa cinque anni fa a livello di brand e da subito ci siamo posti l'obiettivo di diventare una delle aziende di riferimento per la zona notte. Continueremo a collaborare e a consolidare i rapporti con i nostri designer di riferimento e abbiamo in previsione di ampliare quella che è la nostra squadra di designer con dei nomi altisonanti e internazionali che possano portarci a raggiungere l'obiettivo.